Salve a tutti, come vedete da questa mia composizione fotografica, grafica diciamo così, questo è un piccolo tributo che voglio dedicare a uno tra i più grandi giornalisti investigativi che il nostro paese abbia mai avuto, ovvero Andrea Purgatori. Come sapete lo scorso 19 luglio 2023 ci ha lasciato improvvisamente poiché fino a pochissimo tempo fa andava in onda con la trasmissione Atlantide, ma in realtà aveva già scoperto di essere affetto da una forma molto aggressiva tumorale già da due mesi, ma da persona dignitosa qual è, da signore qual era, non ne aveva fatto partecipare probabilmente nessuno, forse neanche colleghi di La Sette con cui condivideva il piccolo schermo. Chiaramente è una notizia che a me ha sconvolto, io ero lavoro con i miei adorati bimbi e un mio amico, tra l'altro mostrologo, mi invia questo messaggio dicendomi, era uno screenshot di un articolo, di un giornale, adesso non mi ricordo se era la stampa o la nazione, con scritto appunto è morto Andrea Purgatori. Sconvolta, tuttora non riesco a crederci perché è proprio stato un fulminaccio al sereno. Come sapete il mio canale spesso si è occupato di commentare, anche in maniera molto critica, le trasmissioni di questa trasmissione, di questo programma interessantissimo e longevo che è Atlantide appunto, condotto da Andrea appunto, e quindi comunque è una figura che io ho sempre seguito e che ho sempre stimato pur negli errori a volte commessi o nelle divergenze di opinioni circa le sue teorie su alcune vicende giudiziare e non. Diciamo che quello che a me piace, piaceva moltissimo, di Andrea Purgatori era proprio questa sua capacità di creare delle trasmissioni, delle puntate, concludendole con questa idea che comunque rappresentati i fatti e le circostanze susseguenti, diciamo, agli avvenimenti del caso in questione, comunque ci sia una verità ancora da trovare, no? L'abbiamo visto nel caso del Mostro di Firenze, l'abbiamo visto nel caso di Meredith Kerchel, l'abbiamo visto nel caso di Marco Pantani, Ustica, il Vaiont, tutti i casi, anche hanno fatto molte puntate sulla pandemia, sul Covid-19, quindi è una cosa, è proprio una costante narrativa e un'impostazione proprio deontologica che aveva Purgatori, ok? E in questo senso metteva un po' d'accordo un po' tutti quanti, cioè sì, come nel caso Mostro, che è il caso che conosco meglio, c'è Sardisti, c'è Paccianisti, i Peruginiani, ci sono gli Speziani, ci sono i Scriviani, i Filastoniani, i Giuttariani, eccetera, ma alla fine cos'è che rimane? Ragazzi, di questa vicenda ancora ne parliamo perché di fatto non c'è stata restituita una verità che sia accettabile, ok? E questa è la grande capacità di un giornalista laureato alla Massachusetts University, negli Stati Uniti chiaramente, in lingua e filosofia, se non sbaglio, quindi insomma un giornalista veramente capace di restituire e di confezionare un programma, anzi scusate, alla Columbia University a New York, se è laureato, in giornalismo e quindi la capacità di un giornalista di veramente far collimare le opinioni di tutti nella oggettività di quello che si sta raccontando, che poi è la sua finalità, ovvero non c'è la verità, qualunque cosa si possa pensare su questo caso, non c'è una verità limpida, pura, libera che ci sia stata restituita. Interessantissime, e io da siciliana ho apprezzato tantissimo perché è una mia battaglia da quando ho 16 anni, quella contro la criminalità organizzata, qualunque forma di criminalità organizzata, ho apprezzato molto le trasmissioni fatte da Andrea, su la trattativa Stato-mafia, che hanno fatto infuriare non poche persone, incluso l'avvocato del compianto ex capo del SISDE, di cui adesso mi sfugge il nome, che è stata una puntata storica, andata in onda, se non sbaglio, la scorsa estate di giugno. No, non è compianto, scusate, non è compianto. Bruno Contrada è ad oggi vivo, ha 92 anni, ma l'avvocato del suddetto delinquente, perché questa è l'unica parola che mi viene da utilizzare nei confronti di un personaggio del genere delinquente, ha fatto infuriare l'avvocato di quest'ultimo, Bruno Contrada, che tra l'altro, io da cineasta vi invito a vedere il film veramente quasi futuristico, quasi preveggente, Giovanni Falcone, di un regista, a mio modo di vedere, tra i più importanti che si è occupato della criminalità organizzata. Il regista è Giuseppe Ferrara, che proprio nella figura di Bruno Contrada incarna un po', come posso dire, il Deus Ex Machina degli eventi che hanno colpito prima Giovanni Falcone e poi Paolo Borsellino. Quindi un giornalista coraggioso, audace, tra l'altro nelle puntate dedicate a questa tematica e purtroppo alla soluzione in terzo grado di giudizio nei confronti di Mori, Colonnello Mori, De Donno e un altro che non mi ricordo come si chiama, per la trattativa Stato-Mafia, per il processo della trattativa Stato-Mafia, ha aggiunto anche cose in più, ha approfondito per esempio tutta la vicenda di quel poliziotto poliziotto che ha salvato Falcone al fallito attentato della Daura, ok? In Sardegna. Quindi comunque, scusate, a Palermo. Quindi comunque mi stavo confondendo con l'anonima Sard. Comunque è tutta la vicenda appunto di questo poliziotto che sembra aver avuto un ruolo molto, molto importante per quanto riguarda appunto quella vicenda lì e poi la successiva uccisione di Giovanni Falcone e parlo di Antonino Agostino, il cui padre Vincenzo Agostino è stato intervistato e c'è una lunga parte del reportage da parte di Andrea Furgatori dedicato proprio alla vicenda di Agostino e una lunghissima intervista a Vincenzo Agostino. Si sospetta che proprio il mandante dell'attentato alla Daura, mentre Falcone era in questo momento, diciamo, di vacanza a Palermo, sia proprio Bruno Contrada, ok? Non vi sono prove certe, ma 90 su 100, io non mi esprimo troppo ma sapete, immaginate come posso pensarla, probabilmente uno dei mandanti, anzi il mandante è lui, chiaramente Riina, eccetera, eccetera. E a tal proposito c'è una commovente linea di, diciamo, di un punto e un comune, un minimo comune denominatore, un filo rosso che lega queste vicende ad Andrea Furgatori perché Andrea Furgatori muore il 19 luglio. Come spero tutti saprete, il 19 luglio ricorre a questo punto il trentunesimo anniversario dalla morte per attentato di Namitardo del povero Paolo Borsellino per mano della criminalità organizzata e non solo, e dello Stato deviato, tra cui Silvio Berlusconi. Qualcuno si incazzerà, io non ho problemi a dire, tra l'altro è recentemente deceduto, quindi non rischio niente. Ed è una cosa molto commovente perché ho letto così di sfuggita degli articoli di giornale che proprio nomenclavano in questo modo la notizia, ovvero due eroe alla ricerca della verità. E in effetti devo dire che Andrea Furgatori è stato veramente un eroe della ricerca della verità. Se pensiamo a come ha dedicato la sua vita, anima e corpo, a trovare la verità per quanto riguarda il caso Orlandi e io credo che in questo momento non siano giornate facili per Pietro Orlandi, che io anzi saluto se mi ascolterai, non credo ma non si sa mai, insomma. Ti mando un abbraccio forte a te, ai tuoi figli, a tua moglie, a tua mamma, perché credo che abbiate perso veramente uno dei pochi baluardi di aggancio per quanto riguarda la fiducia nelle istituzioni e un aggancio alla speranza che questa vicenda di tua sorella Emanuela possa giungere ad una verità. Andrea Furgatori è stato uno dei più attenti, attivi giornalisti ad occuparsi di questa vicenda, l'ha seguita dall'inizio e l'ha seguita ad ora, fino ad oggi. E le ultime puntate, trasmissioni su Atlantide, su Emanuela Orlandi sono di un'importanza, per quanto mi riguarda, fondamentale. E devo dire che a tal proposito io ho il massimo rispetto per la famiglia di Andrea, sono vicinissima ai figli, tra l'altro ho scoperto che uno dei suoi figli, dei suoi tre figli è attore, Edoardo, non lo sapevo e questo mi ha fatto molto piacere. Però io mi sento di condividere con voi un dubbio che, posso dirvi la verità, mi è balenato da subito appena appreso di questa notizia. Innanzitutto per la imprevedibilità di questa, ovvero io non mi aspettavo minimamente una notizia del genere, nel senso che, vi dico, quello che potevo avere notato è che effettivamente Furgatori fumava tanto, sigari, sigarette, quando andavo a fare reportage a giro per l'Italia, per carità, nulla questo. Però chiaramente sappiamo che il fumo è una delle prime principali cause di astura di tumori nelle persone, nell'essere umano, ok? Però non è per forza una conseguenzialità, ok? Ci sono queste forme tumorali di malattie fulminanti che si scatenano nel giro di pochissimi mesi e che portano velocemente purtroppo alla morte di una persona, però dobbiamo anche considerare una cosa. Quest'anno è stato un anno molto importante da un punto di vista professionale per Andrea Furgatori, non soltanto perché le sue trasmissioni veramente si sono direzionate verso casi ad oggi tuttora aperti, verso importanti casi, perché non solo il caso Pantani da una parte, Meredith Kercher, il mostro di Firenze, ma anche cose un po' più fresche sulla pelle degli italiani. Trattativa Stato Mafia, Vaillant, Emanuele Orlandi, Covid-19 e tutto questo chiaramente espone mediaticamente una persona, che sia questo un giornalista, che sia un regista cinematografico, che sia uno scrittore, che sia un qualunque cosa. E quest'anno, proprio per quanto riguarda la vicenda di Emanuele Orlandi, Andrea è stato veramente in prima fila nella battaglia, nella ricerca della verità per questi casi. Che succede? Succede che esce una serie Netflix, che è Vatican Girl, di un regista britannico o statunitense, il quale realizza un documentario in lingua proprio inglese e Andrea, laureatosi alla Columbia University, chiaramente conosceva l'inglese a menadito benissimo, lo parlava perfettamente, e lui è uno dei protagonisti. Quest'anno è stato un anno importante per il caso di Emanuele Orlandi, saprete tutti perché, le dichiarazioni di Georg, ex palla destra di Benedetto XVI, la morte di Benedetto XVI che ha dato il via a Papa Francesco all'apertura delle porte vaticane e agli archivi di quest'ultimo per cercare informazioni circa la verità su dove, su che fine abbia fatto questa ragazza. Allora, cosa succede? Le dimissioni di Benedetto XVI nel 2013 circa, ok? 2012-2013. Nel 2022, dicembre, io ero a Pitigliano con una mia amica a festeggiare il Capodanno, muore Benedetto XVI. Padre Georg scrive un'autobiografia dove fa delle dichiarazioni strane, ambigue sul caso di Emanuele Orlandi, e praticamente viene fuori che Benedetto XVI si è ritirato probabilmente perché scoperto qualcosa a riguardo, ha fatto stile Ponzio Pilato, se ne ha lavato le mani e ha detto io qui mi tolgo di tralle perché vedo che non è più aria. Forse è l'unica cosa saggia che ha fatto in vita sua quest'uomo, forse, visto i precedenti nazisti che lo connotano, ok? Questa mia opinione è personale da persona atia e laica, va bene? Però, transiat. muore Benedetto XVI, Papa Francesco dà segni di apertura a Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, circa una collaborazione attiva del Vaticano nella scoperta di che cosa sia successo alla sorella. Le puntate di Atlantide sul caso Orlandi si intensificano tanto da arrivare a realizzare, se non erro, tre puntate solo nella stagione di Atlantide televisiva dell'anno 2022-2023, ok? Escono fuori delle dichiarazioni di alcuni ex membri della banda della Maiana circa un coinvolgimento di Papa Wojtyla in azioni di tipo pedofilico, diciamo così, e che coinvolgevano la stessa Emanuela Orlandi, motivo per cui c'era bisogno di eliminare questa ragazzina che poteva essere una testimone scomoda per quanto riguarda la testimonianza circa le attitudini sessuali di Papa Francesco, scusate, oddio, lapsus, di Papa Benedetto XVI, ok? scusate, altro bizzarro lapsus di Papa Wojtyla, stavo cercando una cosa su internet, scusatelo un attimo sovrappensiero, e grande attenzione su queste dichiarazioni che siano vere o no ma sono state fatte, grande attenzione mediatica sulla figura di Papa Wojtyla che potrebbe subire un grandissimo, una grandissima rivalutazione in negativo di questa figura grandi attacchi vergognosi, ragazzi, vergognosi nei confronti di Pietro Orlandi per questa, per l'interessamento chiaramente nei confronti di questa persona della ex banda, ex componente della banda della Maiana, che afferma questo circa Wojtyla, attacchi vergognosi fatti a Pietro Orlandi. Io veramente, perché sono molto esterofila? Perché come si fa ad essere fieri di essere italiani quando ci sono persone che hanno il coraggio di scagliarsi contro un uomo che ha perso la sorella quando lui aveva poco più che vent'anni e che da quarant'anni, quarant'anni, lotta per riavere quella ragazzina che oggi si è viva a sui cinquant'anni ed oltre e non l'ha più rivista e la sua immagine stampata nella mente è di lei bambina, quindi pensate che cosa troce non poter rivedere la sorella per quarant'anni, il padre morto probabilmente di crepacuore in seguito al dolore di avere perso una figlia in un modo o nell'altro, una madre novantenne che tuttora lotta e la cosa che la fa restare forte è il pensiero un giorno di riabbracciare la figlia e questi che si permettono di giudicare un fratello che ha vissuto tutto questo per il semplice fatto di avere dato ascolto a qualcuno che parla in questi termini di Papa Voitiva vi dovete solo vergognare per una cosa del genere, vi dovete vergognare, è qualcosa di inammissibile e mi meraviglio di come anche i più ferventi cattolici si siano potuti affiancare a queste stupide e becere critiche, io vorrei vedere voi se vi sparisse una sorella e venisse fuori qualcuno a dirvi che Voitiva compiva atti pedofilici su vostra sorella, vorrei vedere voi ragazzi siamo tutti bravi in Italia, siete tutti bravi a parlare perché io non metto nella mischia di queste persone perché io appartengo a un'altra forma mentis, ringraziando il Signore vorrei vedere voi, vorrei vedere voi e poi se ne riparlerebbe ma non vi vergognate chiusa la parentesi esce Vatican Girl che il nome è tutto un programma, la ragazza del Vaticano che vi consiglio di vedere perché è una serie, innanzitutto girata magnificamente questo regista con i controcazzi per quanto mi riguarda visto che il cinema è il mio mestiere e anche il documentario, il cinema documentaristico ma il portavoce, il protagonista, la persona chiave di questa serie è proprio Andrea Purgatori Papa Francesco dopo una serie di titubanze soprattutto derivanti dall'uscita secondo me dell'autobiografia di Georg personaggio di per sé molto ambiguo e che ha parlato con Pietro, circa la sorella Emanuela e secondo me alla luce poi a posteriori di quello che abbiamo visto ha anche preso, scusate, Benedetto XVI da una serie di problemi di salute e per fortuna poi tutti risolte anche perché io stima di Benedetto XVI alla fine decide di aprire le porte non senza difficoltà tant'è vero io adesso non so a che punto stiamo con questo accesso agli archivi vaticani comunque dai il via non dimenticatevi che c'è questa frase strana che Papa Francesco dice a Pietro Orlandi in tempi non sospetti se non erro cinque sei anni fa ovvero questa frase Emanuela in cielo no no Pietro Emanuela in cielo ragazzi io credo che Papa Francesco sia in una situazione più grande di lui credo sia forse l'unico Papa degno di essere passato dal Vaticano ma che si sia reso conto troppo tardi di essere in mezzo ad un mondo marcissimo e non escludo che questi problemi anche di salute di Papa Francesco che non è proprio di primo pelo ma non è neanche tra i più anziani siano proprio dovuti a un indebolimento fisico dovuto a una situazione di forte pressione in questo senso e adesso muore proprio alla richiesta tra l'altro di un'apertura di una commissione parlamentare su la vicenda Orlandi commissione parlamentare non è proprio un scherzo ragazzi che muore quel pioniere lì colui che ha contribuito più di tutti a mantenere viva l'attenzione su questa vicenda ripeto io ho il massimo rispetto di tutti non voglio offendere nessuno con queste mie ipotesi però ragazzi posso dirvi la verità la prima cosa che io ho pensato qui l'ha fatto fuori qualcuno perché era un personaggio scomodo che probabilmente stava contribuendo e questo secondo me è un anno decisivo per un risvolto circa la vicenda di Emanuela e Andrea andava fermato però sono pensieri un po' così volanti voli pindarici se non che qualche giorno fa mi arriva un articolo su internet cioè navigando figli richiedono accertamenti circa la gestione delle cure affidate appunto cioè prescritte a purgatori per questa forma tumorale probabilmente sbagliate ragazzi io sono molto perplessa vi dico la verità tra l'altro è strano anche questo trasferimento tra questo ospedale romano scusate questa clinica privata e questa traslazione questo spostamento in questo ospedale romano dove pare lui si è deceduto vi ripeto io sono complottista ma sono anche una persona molto realista piantata sulla terra piedi per terra però a me questa vicenda mi dà da pensare tantissimo e io temo che potrebbero esserci risvolti molto pesanti a breve su questa vicenda è una morte strana è una morte improvvisa in un anno particolare fruttuoso da un punto di vista lavorativo per Andrea c'è qualcosa che a me non torna e questa indagine giustamente chiesta dai figli per negligenze curative da un punto di vista sanitario mi dà ancora più perplessità io ragazzi spero di non averci preso perché onestamente sarebbe una cosa gravissima e bye bye vaticano in tal caso spero che non sia vero anche se non è vero rimane gravissimo se davvero ci sono state delle negligenze sanitarie nella gestione di questa malattia e Andrea sia morto per un errore sanitario e spero che questi medici in tal caso marciscano all'inferno per il resto della loro vita e in galera ma se così non è aiuto aiuto veramente perché qui la faccenda inizia a farsi grave perché se niente niente il Vaticano ha davvero progettato un qualcosa per eliminare un ostacolo importante e fondamentale nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuele Orlandi altro che criminalità organizzata è qualcosa di agghiacciante e non dimenticatevi i guai che hanno passato Nuzzi Fittipaldi e tutti quei giornalisti che hanno provato minimamente parlo del Vatilix ad avvicinarsi a queste inchieste e a indagare sul marciume dietro il mondo Vaticano tutti i giornalisti messi nei casini tutti i giornalisti provati ad essere screditati chiaramente rimbalzando con tanti calci nel culo ma ci hanno provato e Purgatori era una persona cioè perché Fittipaldi Nuzzi tutti i giornalisti perfetto ma Purgatori era quello che si era esposto in prima linea più di tutti era ovunque è andato da Floris a fare intervista con Pietro Pietro Irlandi ha fatto puntate su puntate con Atlantide cioè un po' come Santoro con il discorso Stato-mafia e infatti anche lui proiettili in busta li ha ricevuti la redazione li ha ricevuti tutti gli altri giornalisti sono stati minacciati quando tu ti esponi così ed è per questo interessante il parallelismo con Borsellino ecco non vorrei che con Borsellino oltre il giorno della morte condivida anche la stessa sorte ha fatto anche la rima non volendo ragazzi aspettiamo sviluppi io prego il Signore che non sia così ma a me questa morte mi procura moltissimi dubbi ve lo dico proprio da cittadina italiana che ha seguito queste vicende e che stimava Purgatori c'è qualcosa che a me non torna detto questo Andrea ovunque tu sia ci mancherai ovunque tu sia credo che il futuro di questo programma sarà la chiusura perché senza di te chiedi la parte fondamentale sarà impossibile probabilmente fare un programma continuare con questo programma una perdita che non ci voleva quest'anno nel panorama culturale e giornalistico italiano e anche dello spettacolo perché comunque è anche intrattenimento Atlantide io mando un abbraccio enorme ai figli all'ex moglie all'eventuale non lo so compagna se avevi una compagna in questo momento non lo so ma soprattutto alla famiglia spero che si chiariscano queste indagini che si chiarisca la la causa della morte appunto e spero mi auguro non ci siano motivazioni di negligenza sanitaria e soprattutto spero che le battaglie che ha portato avanti in vita con le sue trasmissioni e con il tuo lavoro di inchiesta da giornalista portino a delle novità che anche se ora non ci sei più e quindi non potrai vederle ma a posteriori non rendano vano il tuo sforzo il tuo impegno ragazzi ci vediamo a breve con un podcast io vi saluto amaramente e ciao Andrea e alla prossima ciao